Nell'ambito del progetto Inpluserve, capace di coinvolgere e venne a quattro paesi europei oltre l'Italia, il palazzo della provincia di Perugia ha ospitato un workshop rivolto a chi opera nella pubblica amministrazione. Obiettivo principale è valorizzare la diversità e il conflitto nella gestione delle risorse umane all'interno del settore. Inpluserve è una continuazione su scala europea di io e gli altri, un progetto di formazione che è diretto ai dipendenti sul conflitto e sul benessere del mondo del lavoro. La particolarità è che è un progetto europeo, quindi abbiamo un coinvolgimento di partner europei spagnoli, portoghesi, ciprioti e olandesi. È nato da un progetto precedentemente svolto con INAIL Umbria, INCACIGL Umbria e sempre ANCI Umbria, che invece prevedeva la formazione per i dipendenti dei servizi pubblici. Quindi abbiamo voluto completare ed arricchire questa formazione e l'inclusività all'interno delle pubbliche amministrazioni con un progetto europeo rivolto stavolta ai manager. Dall'ammiglioramento delle competenze dei manager della PIA alla creazione di un report destinato a garantire l'integrazione della formazione professionale nei vari ambiti di un comparto così vasto. Questi alcuni dei punti fermi dell'incontro, aspetti decisamente importanti per ottenere dei risultati concreti a livello professionale. L'elemento che contraddistingue questo progetto sono essenzialmente due. Uno è diretto al management, quindi la parte apicale e la parte della pubblica amministrazione. Il progetto è incentrato sulle diversità come valore all'interno della pubblica amministrazione, ma soprattutto ha la finalità di creare questa nuova figura che è già presente nel mondo anglosassone, in particolare nel mondo dei Stati Uniti d'America, è presente anche in Europa, ma questo progetto ha l'ambizione di definire degli elementi, delle guida, per dare omogeneità al sistema europeo di questa nuova figura. Grazie.